Il giro del mondo a chilometro zero. Parteciperai a feste, eventi, ceni, aperitivi e viaggi. Stringerai amicizie che nulleranno distanze e anche confini. Ti divertirai a conoscere nuove culture e imparare nuove lingue. Siamo un'associazione di volontariato che promuove la mobilità e l'integrazione culturale in Europa. Students helping students è il nostro motto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS